Professoressa Colpi, è passato quasi un secolo da quando Albert Einstein pubblicò la Relatività Generale. Quanto è stata grande l'intuizione di Einstein? Immensa e più di quanto Einstein stesso potesse immaginare. Einstein compie un viaggio solitario al fine di comprendere alcuni aspetti molto profondi della natura, cercando di superare alcune inconsistenze che a fine dell'Ottocento emergevano fra meccanica classica e elettromagnetismo. Einstein unifica gravità e luce e formula la Relatività Generale, una teoria matematica di immensa eleganza e bellezza con la quale noi oggi, a cento anni di distanza, descriviamo la realtà fisica. Che cosa sono gravità e luce? La gravità dà peso ai corpi qui sulla Terra, ma è anche responsabile dei moti curvilinei dei pianeti attorno al Sole, delle lune attorno ai pianeti, delle stelle nelle galassie. La gravità è ovunque nell'universo e per Newton la gravità è una forza a distanza che si trasmette istantaneamente con una velocità infinita tra i diversi corpi. La luce ha un'oscillazione del campo elettromagnetico e si propaga a una velocità finita, 300.000 km al secondo. Regola l'interazione tra cariche elettriche ed è un esempio appunto di un'interazione che si realizza a velocità finita. Einstein capisce che questo è un limite invalicabile. Ogni informazione può essere trasmessa a una velocità inferiore o al più pari alla velocità della luce. E allora che cos'è la gravità per Einstein? La Terra si muove intorno al Sole. Per Einstein la Terra si muove lungo una traiettoria rettilinea diritta all'interno di uno spazio curvo e la curvatura è causata dalla gravità del Sole. Einstein ci dice che la materia curva lo spazio e lo spazio dice alla materia come muoversi. La gravità è geometria, la gravità è curvatura dello spazio-tempo. La gravità curva anche il tempo e là dove la curvatura è più estrema il tempo scorre più lentamente. In questo spazio-tempo curvo anche la luce segue traiettorie curvilinee. La gravità modifica il percorso di propagazione della luce. Come sono state dimostrate le predizioni di Einstein? Le predizioni della Relatività Generale sono state verificate con straordinaria precisione, ma il trionfo di Einstein avviene nel momento in cui Sir Arthur Eddington misura la deflessione della luce durante un'eclisse solare nel 1920.